Benvenuti a tutti a questo video, io sono Albi Fisio e questo è il 17esimo video ripasso di Biologia per Maturità, Test Professione Sanitarie e Medicina. Oggi parliamo dell'apparato cardiocircolatorio, che è costituito dal cuore, dai vari sanguigni e linfatici e dal sangue. Il compito dell'apparato cardiocircolatorio è quello di trasportare in tutti i distretti corpori il sangue, e con onesso ovviamente il sangue trasporta ossigeno, sostanze nutritive, molecole anche per difesa e per l'organismo. Inoltre, contemporaneamente accoglie ed asporta i metabolismo di scarto. Il cuore, come vediamo in questa immagine, ha una forma piramidale, che la base è più rivolta verso destra, infatti si dice che il cuore a destra è centrale, con l'apice del cuore più rivolta verso destra. Invece, in basso a sinistra, è alloggiato in una regione del torace detramediastino. È un organo essenzialmente muscolare, chiamato anche miocardio, e rivestito esternamente nella membrana connettivale, chiamato il pericardio, ed internamente dall'endocardio. Quindi queste sono le varie parti che suddividono il cuore. Questa immagine un pochettino riassume l'anatomia principale da sapere nel cuore. Vi consiglio di disegnare e di scrivere ogni parte. Questa ovviamente è un'immagine frontale, e poi ne trovate anche su internet moltissime laterali, o anche quelle tridimensionali, che sono quelle che ti hanno l'idea forse migliore dell'anatomia, ma per un fatto di copyright non potevo farvi mostrare. Per fare un rassunto, quindi il cuore ha quattro cavità interne, ha due atri, in cui entra il sangue nell'altro destro, e questo sangue entra, che viene, per esempio questo sangue proviene dalle vene cave, che sono provenienti superiori ed inferiormente. Vediamo se ho una foto migliore, eccola qua. E invece il lato sinistro entra il sangue ossigenato, che è proveniente dai polmoni, e poi ci sono due ventricoli da cui il sangue esce. Il venticolo destro, dove il sangue proveniente dal lato destro attraversa la valvola tricuspide, ed entra nel venticolo destro, dove viene pompato tramite le arterie polmonari, verso i polmoni. E poi abbiamo un venticolo sinistro, come vedete nell'immagine, dove il sangue ossigenato è rientrato nell'altro sinistro, tramite le vene polmonari, attraversa la valvola bicuspide e arriva nel venticolo sinistro, da cui viene pompato nell'arteria aorta, che vediamo anche nell'immagine. Ora parliamo dell'importanza, insomma, anche dell'atomia, o della struttura, diciamo, delle valvole semilunare, dove all'origine della orta e dell'arteria polmonare ci sono queste particolari valvole, che sono le valve semilunari, che impediscono il reflusso sanguigno dei ventricoli. E quindi hanno una struttura, che come vediamo qua, la valvola è aperta, quando è chiusa il sangue non può tornare indietro. Certe patologie, posso aggiungere, invece rendono, come defibrillazioni o altre problematiche della valvola, succede che proprio la persona invece avviene un rientro di sangue, e questo ovviamente crea dei problemi nella circolazione, ma anche nell'efficienza del pompaggio del sangue nel corpo. Inoltre, è importante aggiungere che, una domanda che ti può venire spontanea, è come avviene la contrazione del cuore, perché il cuore, insomma, non dobbiamo, come ho detto, è un muscolo involontario, e quindi si contrae da solo, fino alla morte. Il cuore si contrae in modo automatico, e lo stimolo della contrazione è su origine dal cuore stesso. E questo perché? Perché esiste un gruppo di cellule, che posto nella parete del lato destro, il nodo seno-atriale, come vedete scritto in questa immagine, che è anche chiamato il vero e proprio pacemaker primario del cuore. E lo stimolo si propaga alle firme muscolari degli atti, che si contraggono. E poi ad un altro nodo, il nodo atrio-ventricolare, da cui lo stimolo, tramite un fascio di tessuto nodale, il fascio di His arriva ai ventricoli e li fa contrare. E quindi avviene una vera e propria, diciamo che parte dal nodo seno-atriale. E dopo, diciamo che questo segnale arriva fino all'apice del cuore, fino in tutta la parte del cuore. E il battito cardiaco, infatti, ha due fasi sistoliche. La fase di contrazione, è quella sistolica, e la fase di diastole, che è la fase di rilassamento, dove in questa fase le cavità si riempiono di sangue. E la gitata cardiaca, invece, è il volume di sangue emessa dal venticolo sinistro in un minuto. Questa è questa definizione che dovete imparare. Parliamo ora del sangue. Il sangue, come avevo detto in un video precedente, è un tessuto connettivo fluido, che è composto da una parte corpustolata, cellule e derivate cellulari, sono ovviamente, diciamo che comprendono, se prendiamo un campione di sangue, il 45% del volume, e la parte liquida, invece, il plasma, che è composto al 55% del volume. Il siero, che anche, forse avete sentito che adesso viene anche richiesta la donazione del siero, è il plasma privato delle proteine della coagulazione. E il volume medio del sangue di un adulto è circa di 5 litri, quindi questo è un fun fact che può essere importante per l'esame e l'amissione. Ovviamente dipende dalla stanza della persona, ma generalmente, diciamo che nell'umano è 5 litri, nell'adulto. E poi, nella parte, possiamo parlare della parte corpustolata, del sangue, dove, anche qua nell'immagine, dove è composto da diversi cellule, che sono i globuli rossi, chiamati anche eritrociti, e questi trasportano O2 e CO2, e ne troviamo, la quantità è tantissima, è vasta, e per millimetro quadrato sono circa 5 milioni in media di eritrociti. Poi abbiamo gli globuli bianchi, o anche chiamati leucociti, che sono invece cellule che producono anticorpi, e danno un'attività fargocitaria e batteriologica di 6 mila in media per millimetro quadrato. Poi abbiamo le piastrine, che sono derivati di frammentazione di cellule molto grandi, e questi servono per, in processi di coagulazione, per esempio facciamo un taglio, e dopo, tramite le piastrine, il corpo riesce a creare la famosa crosticina, e qua diciamo che circa sono 250 mila per metro quadrato, quindi ovviamente, come questo cosa dice, che i globuli rossi sono molto molto più piccoli, e presenti in maggior numero per metro quadrato. Poi abbiamo una parte qui, liquida il plasma, che questo, come ho detto prima, è formato da acqua, proteine, sali minerali, e contiene inoltre ormoni, enzimi ed anticorpi. Allora possiamo chiederci, come viene prodotto il sangue? Adesso andrò a parlare della produzione del sangue. Il sangue viene prodotto in un processo, che è detto ematopoiesi, e avviene questo nel midollo osseo. Molto spesso pensiamo all'osso come una struttura morta, invece no, ricordiamo che l'osso permette anche la produzione di sangue, e l'osso poi è vivo, quindi con gli ostociti, ostociti e l'ostro... scusate, lo so in inglese, ostoclast e l'ostoblast, quindi c'è avendo una ricostruzione dell'osso, ma anche una distruzione. Ma in questo caso, come stavo dicendo, l'osso produce anche le cellule sanguigne. Tutte le cellule del sangue, inoltre, derivano da un'unica cellula progenitore, che si differenzia in due cellule, che daranno le due linee mielodiche, i globuli bianchi, i rossi e le piastrine. E poi, anche pensiamo a linee linfodiche, ai linfociti. Ora parliamo del trasporto del sangue, e il trasporto del sangue, ovviamente, parliamo del trasporto di ossigeno a nidride carbonica. Quindi, l'ossigeno a nidride carbonica, vengono trasportati nel sangue e legati da una molecola, l'emoglobina. Questa proteina è formata a quattro subunità, contenente quattro atomi di ferro, ed è in grado di legare quattro molecole di ossigeno. L'emoglobina carica d'ossigeno negli alveoli polmonari e lo rilascia una volta giunta nei capillari periferici, dove scambia l'ossigeno con l'anidride carbonica prodotta dal metabolismo cellulare. Quando il sangue arriva nuovamente ai polmoni, l'anidride carbonica viene rilasciata e l'emoglobina lega nuovamente a ossigeno. Poi parlando della coagulazione invece del sangue, sappiamo che il sangue conserva la sua normale fluidità quando è all'interno dei vasi sanguigni, se viene a contatto con tessuti diversi da quello che tappezza all'interno dei vasi, il sangue si coagula. Il processo di coagulazione è invece una serie di reazioni a cascata che convolge piastrine, gli olbuli rossi e tutta una serie di proteine presenti nel sangue in forma inattiva. Se c'è una lesione, ad esempio, all'interno di un vaso, come detto prima, le piastrine si aderiscono immediatamente e rilascia un enzima, la tromboplastina, che trasforma la protrombina in trombina. anche grazie a mediatore con il calcio e la vitamina K. Questa cosa fa? Praticamente trasforma un'altra proteina inattiva, il fibrinogeno, nella forma attiva, la fibrina. I filamenti proteici di fibrina formano una fitta rete che intrappola piastrine e i globuli rossi e forma il coagulo che chiude la lesione. Dopo questo è un po' un riassunto dei tre punti più importanti, secondo me, che volevo discutere, quello del trasporto, della coagulazione e della produzione sanguigna. Parliamo dei vasi, la differenza tra arterie e vene e anche dello scambio dei tessuti. Nei vasi sanguigni possiamo dire che dividiamo tra arterie, le arterie trasportano il sangue fuori dal cuore e con le cessioni delle arterie polmonari e che trasportano sangue ossigenato. Hanno pareti spesse, con muscolatura liscia, sviluppata e aiutano la spinta propulsiva del sangue e l'elasticità delle arterie rende costante il flusso cardiaco pulsante. Invece, in contrasto, vediamo l'anatomia delle vene, le vene trasportano il sangue al cuore con l'eccessione delle vene polmonari e trasportano sangue non ossigenato. Molto spesso vengono rappresentate del colore blu. Invece il sangue ossigenato viene rappresentato col colore rosso. Hanno pareti sottili che offrono scarsa resistenza al flusso sanguigno favorendo il ritorno al cuore. Le vene, inoltre, potete vedere che sono, non questa immagine, ma sono molto più grosse in dimensioni e sono dotate di valvole che impediscono il riflusso del sangue. Ovviamente il sangue passa a una pressione molto più bassa in confronto all'arteria dove invece il sangue viene schizzato e sparato ad alta velocità. Le arterie diminuiscono di calibro man mano che si è lontano dal cuore fino a diventare capillari, vasi della parete sottilissima, che sono costituiti solo da cellule endoteliali, come vediamo qui nell'immagine, e dalla loro membrana basale, quindi una membrana molto sottile che permette la diffusione di molecole. E attraverso queste sottile pareti di capillari si diffondono i gas respiratori, le sostanze nutrienti e di rifiuto, diciamo, e gli ormoni. Il flusso sanguigno interno ai capillari è lento e in questo modo facilita la diffusione delle sostanze. Ai vasi capillari possiamo anche dire che fanno seguito le venule di piccolo dimensioni che diventano man mano di calibro maggiore ed assumono le caratteristiche isosologiche delle vene. Ma ora magari possiamo chiederci come avviene questo scambio di sostanze tra sangue e tessuti. Avviene tramite diffusione secondo gradiente e dipende dalla differenza tra la pressione idrostatica e la pressione osmotica che esiste tra sangue e liquido. Le sostanze che entrano ed escono dalle cellule passano obbligatoriamente per il liquido interseziale. Ora parliamo brevemente della circolazione sanguigna. Possiamo distinguere la piccola e la grande circolazione. La piccola è quel percorso che permette che il sangue diossigenato giunge ai polmoni e poi questo ritorna al cuore nuovamente ossigenato. Invece nella grande circolazione quello che avviene avviene che in questo percorso parte dal lato sinistro arriva e va al venticolo sinistro poi tramite la orta il sangue passa nell'intero albero arterioso e venoso che abbiamo parlato prima e poi ritorna al lato destro del cuore. Invece nella piccola circolazione quello che avviene è che questo percorso incomincia dal lato destro poi va al venticolo destro e poi tramite l'arteria polmonare arriva ai polmoni e dopo tramite le vene polmonari arriva all'atrio sinistro. Spero che non sia di troppa confusione inizialmente ho avuto difficoltà a ricordarmi la differenza tra i due e ora parliamo dei vasi linfatici e del sistema linfatico che praticamente il sistema linfatico decorre parallelamente ai vasi arteriosi venosi. Questo trasporta il liquido interseziale detto linfa che è un liquido che non rientra nei capillari venosi ma che però ritorna al cuore tramite una rete di vasi che si originano a fondo cieco nel parenchima degli organi e i vasi linfatici versano il loro contenuto in dotte di dimensioni sempre maggiori sino al dotto toracico e dalla grande vena linfatica che terminano il loro percorso gettandosi nelle vene su clave alla base del collo. Come fisioterapisti noi possiamo anche lavorare con vengono fatte le tecniche di linfo drenaggio forse vengono sentito parlare e sono delle tecniche che permettono il trasporto o facilitare insomma il trasporto di questi liquidi di questa linfa e sono delle tecniche particolari che ovviamente l'operatore deve sapere deve conoscere questi punti queste valvole questi punti dove viene spostato il liquido il flusso della linfa nei vasi linfatici è regolato non da un organo propulsore ma dalla contrazione dei muscoli del corpo e i vasi sono dotati di valvole che impediscono il reflusso della linfa i vasi linfatici che trasportano anche i lipidi assorbiti all'interno dopo la digestione dei cibi ovviamente contengono globuli bianchi che sono importanti per il sistema immunitario possiamo pensare ad organi come le tonsille o la milza sono tutti zone dove producono la linfa e tutte queste agiscono e agiscono come fanno parte del sistema immunitario bene grazie a tutti per aver visto questo video ci vediamo nel prossimo diciottesimo video ripasso di biologia ciao ciao